pare proprio essere giunto al capolinea il matrimonio tra kevin prince boateng e valentina fradegrada tutti gli indizi è passato poco più di un anno da quando l'11 giugno del 2022 kevin prince boateng e valentina fradegrada sono convolati a nozze un matrimonio che aveva suscitato molto scalpore dato che oltre che nella realtà i due si sono sposati anche nel metaverso un evento veramente unico dato che si tratta di uno dei primi matrimoni celebrati nella realtà parallela ebbene a distanza di 13 mesi le cose tra la coppia sembrerebbero non andare bene e tutti gli indizi porterebbero ad un palese allontanamento da tempo in realtà si mormora di una crisi tra boateng e valentina il primo campanello d'allarme è arrivato quando dai profili instagram di marito e moglie sono sparite tutte le fotografie di coppia un gesto veramente inusuale che ha subito fatto pensare ad una possibile frattura nel matrimonio da lì i poi i segnali sono diventati sempre di più e soprattutto di gravità maggiore prima di tutto dopo l'eliminazione delle foto insieme l'ex calciatore e l'imprenditrice 5 volte campionessa italiana di arti marziali hanno smesso di seguirsi su instagram insomma almeno pubblicamente i due hanno preso una netta posizione eliminando totalmente ogni traccia dell'altro dai rispettivi social dopodiché i gesti si sono spostati dalla sfera social alla vita reale da diverse foto è stato possibile notare che nessuno dei due porta più la fede quel simbolo dell'unione del loro amore avvenuto in una cerimonia più unica che rara e improvvisamente scomparso inoltre la distanza fisica tra marito e moglie al momento è molta l'ex calciatore infatti trova in australia mentre valentina è in italia come se non bastasse diversi utenti da giorni scrivono sotto i post instagram di entrambi chiedendo che fine abbia fatto il rispettivo partner tuttavia nessuno dei due ha mai risposto a queste domande ignorando completamente gli insistenti commenti su questa vicenda